Saranno aggiudicati entro il 30 novembre, salvo proroghe, i lavori del primo lotto di collegamento fra la tangenziale di Salerno, l'aeroporto Costa d'Amalfi e Capaccio. L'appalto, predisposto dalla provincia, è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale dello scorso 19 ottobre. Il primo step da 2.942.000 euro riguarderà i comuni di Ponte Cagnano, Faiano e Bellizzi e vedrà l'adeguamento delle artere che dalla tangenziale conducono all'aeroporto. Nello specifico, il ramo che collega Laversana via Lago Lucrino, proseguendo su via Lago Carezza via Pepe fino ad immettersi nel comune di Bellizzi. L'area dell'intervento in questione si concluderà in corrispondenza del sottopasso situato nei pressi della SS18.